Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, beati voi che siete ad Arezzo. Quest'oggi diamo un'occhiata, così per curiosità, semplicemente alla pagina di Repubblica.it su internet. Le notizie iniziano così. Schifani minaccia elezioni. Fini, dice ai suoi, è solo un blef. Corruzione non è un reato grave, ma ci costa 25.000 euro a testa. Oltre 220.000 firme con Roberto Saviano. Bianco Natale senza immigrati. Il comune leghista di Coccaglio caccia i clandestini. Organizza l'operazione White Christmas, vigili casa per casa per identificare chi non è in regola e togliere le residenze. L'assessore. Natale non è la festa dell'accoglienza, ma della nostra identità cristiana. Acqua ai privati, legge blindata, Lega in difficoltà, va cambiata. E su questo potremmo già cominciare a commentare che non vorrei mai essere un leghista che deve spiegare ai suoi elettori che pretendono la loro terra tutta per loro che tra un po' l'acqua gli verrà scippata e dovranno bere pagando delle multinazionali di quelle super ladrone che la Lega dice di detestare. I comuni però sembra che non potranno assegnare a società pubbliche alcuni servizi, anche quelli idrici. Almeno, dice la Lega, poi si modificherà la legge che per ora va approvata. Guerra delle TV, Mediaset contro Mardoc, la RAI anche su Sky ordina la Gcom, studenti in piazza in tutta Italia, attenzione a Milano, città bloccata, ieri a Firenze è stata bloccata la stazione di Santa Maria Novella, caso Cucchi, illegale accusa sul suo corpo bruciature di sigarette, USA-Cina, l'impegno sul clima non c'è, stupro di gruppo su una 14enne, in manetta quattro minori affoggia, la ragazza attirata in un capannone da uno dei giovani che poi ha chiamato gli altri, la vittima ha parlato con i genitori e poi ha denunciato tutto ai carabinieri. Il vertice della fame nel mondo, il vertice della FAO, però arriva molto dopo anche sul sito di repubblica.it, verso un codice di condotta per fermare i predoni delle terre. Sapete che ormai si è passati direttamente all'acquisizione per via contrattuale di proprietà di parti consistenti dell'Africa, per esempio, e anche qualcosa in Sud America. Da parte anche della Cina, che pensa di non avere in futuro sufficienti territori per coltivare quanto è necessario alla sua popolazione in aumento. Per cui sembrerebbe che ci potesse essere messa una regolamentazione, che non si possa comprare da parte delle grandi potenze interi pezzi di territorio. Al Summit di Roma impegno contro le acquisizioni selvaggi. Il Presidente però dello Zimbabwe, Mugabe, ha detto che le sanzioni sono inumane e illegittime. Le organizzazioni non governative invece parlano di diritto a cibo e acqua come unica soluzione. Insomma, siamo proprio ancora alla preistoria. La notizia interessante a margine di questa è che negli Stati Uniti, USA, USA, 49 milioni di persone soffrono la fame. Intendo su dei 150 milioni circa quanti sono. Mi fermo qui, che mi sembra già piuttosto già basta, però in realtà più sotto vedo che a Roma la polizia diffonde le immagini di un'aggressione avvenuta la scorsa settimana alla stazione Termini senza che nessuno intervenisse. Pestaggio nell'indifferenza. Arrestati due romeni, che certamente non in quanto rumeni sono sadici, ma in quanto disgraziati e disperati. Questa era la prima pagina di Repubblica.it questa mattina per cominciare la giornata e rendersi conto che alcune notizie sono assolutamente comiche, altre sono tragicomiche, altre sono molto tragiche. L'unica cosa che non si riesce a capire ma su quale mai si comincia a scommettere è se il governo Berlusconi resterà in piedi o no. Ma mi dedicherò a questo punto in chiusura della trasmissione a una considerazione che vi sorprenderà e cioè vorrei spendere una parola a favore dell'utilizzo delle carte di credito e dei bancomat, cioè della cosiddetta moneta di plastica. Tenete anche presente che la carta di credito non è sempre quella trappola che si è rivelata per molti ma è una carta che può essere pagata a saldo mensile senza interessi e che permette di viaggiare senza contanti in tasca. Un po' come il bancomat, però il bancomat è una spesa che viene immediatamente detratta dal conto bancario mentre la carta di credito ha una data fissa in fondo al mese. Perché voglio spendere questa parola nei confronti della moneta di plastica? Pensate, sarebbe un rarissimo caso di convergenza di interessi fra la popolazione, lo Stato e le banche che in genere hanno interessi sempre che vanno in direzioni completamente opposte. Il motivo è questo. I contanti sono causa di evasione fiscale e di grande utilità alla mafia. L'articolo che appariva in prima pagina del Corriere della Sera di qualche giorno fa che non voglio nemmeno buttare via perché lo voglio conservare per il futuro di giovedì scorso 12 novembre intitola Banconote da 500, chi le ha viste? Banca Italia ipotizza che i bigliettoni siano usati per il riciclaggio. Banconote da 500 euro più di un mistero per chi non le avesse mai viste scrive Mario Gerevini hanno un colore violetto e raffigurano architetture moderne e misurano 160 per 82 mm. In circolazione risultano attualmente 550 milioni di bigliettoni per un valore di 275 miliardi pari al 36% del totale delle banconote in euro eppure i preziosi foglietti sono sconosciuti dai cittadini dei 16 stati della UE che hanno adottato la moneta unica perché? Dunque a cosa servono? C'è un rapporto riservato della Banca d'Italia Unità di Informazione Finanziaria UIF che porta a questo titolo analisi sull'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio io non vi leggo altro è ovvio i contanti sono utilizzati principalmente dai criminali sia grandi che piccoli molto spesso certe aziende certi artigiani certe persone non vogliono usare nemmeno il Bancomat non propongono l'uso nemmeno del Bancomat perché così possono fare lo scontrino quando meglio gli fa comodo anche quasi mai in alcuni casi estremi diciamo qui da noi in Toscana e a Firenze per essere ottimisti mentre l'utilizzo delle carte contabilizza tutto ma soprattutto contabilizzerebbe anche il trasferimento di ingenti somme di denaro da riciclare che invece circolano in contanti che ogni tanto vengono anche beccate queste ingenti somme di denaro alle frontiere uscita dall'Italia quando viene fatto dei controlli per cui perché non viene incentivato l'utilizzo delle carte di plastica dei soldi di plastica perché questo potrebbe non risultare gradevole elettoralmente né a quelle migliaia e migliaia di evasori fiscali italiani di piccolo taglio né a quelle migliaia e migliaia di criminali italiani e internazionali di grande taglio pensateci su questo anche perché poi in fondo l'utilizzo dei contanti è una perdita di tempo e oltretutto visto che si parla tanto di sicurezza non avere contanti in tasca è comunque più sicuro che averceli anche perché la carta può essere bloccata con una telefonata e con questo ho chiuso vi auguro buona giornata vi auguro anche una buona serata e vi do appuntamento domani mattina linea a Radio Wave International da Claudio Ghirardini beati voi che siete ad Arezzo